Non mi non può! Ma doveva dire lei? Ispirato a un'incredibile storia vera... Non ho un lavoro. Non sono riuscita a comprare due costumi di cannavale per i miei figli. L'amore finisce, finiscono i soldi. E finisce pure la sfiga, o no? No, la mia figlia finisce da sola. La devi aiutare. Ci attraversiamo da uomini, non ci troveranno mai. Questi erano dei professionisti dal sangue freddo. Ho detto mille volte, non puoi chiedere a Madonna se ti fa morire tuo marito. Dove sta mia madre? È arrivato un uomo, fa il poliziotto. Entra in emanazione. Furbi. Non ci sono andato a letto. Luca Argentero, Ambra Angiolini, Serena Rossi, Stefania Sandrelli. Doni d'assurda, perfino per me. Commissario Moragli. Gianni Moragli. Tiacere, Don Baghi. Abbiamo fatto il canto a gira, ha visto? Brave ragazze. Questa sera alle 21.30, Rai 1.